E' stato assegnato a Giancarlo Magalli, noto conduttore di programmi televisivi di successo, la quattordicesima edizione del Tralcetto d'Oro dell'amicizia, premio istituito a ricordo della grande amicizia tra Ciccio Zaccagnini, padre del noto imprenditore vetivinicolo Marcello e l'avvocato Giuseppe Prisco, entrambi combattenti in Russia nel secondo conflitto mondiale con il battaglione Alpini-L'Aquila. Nell'albodoro della manifestazione figurano i nomi di Sergio Zavoli, Roberto Gervaso, Gianni Letter, Mannolmi, Gigi Proietti ed altri. L'amicizia è una cosa fondamentale che in Italia viene spesso interpretata in maniera maliziosa. Gli amici, gli amici degli amici, in genere l'amicizia nasconde, spesso in Italia serve un nome che serve a coprire connivenze. In realtà l'amicizia, quella vera, quella genuina, quella spontanea, è una cosa bella perché è forse l'unico tipo di sentimento reciproco che non ha corrispottivo, non ha niente in cambio, perché già l'amore qualcosa in cambio vuole. Esatto, ma quello che ha detto appunto prima il maestro Magalli è quello che l'amicizia non è legata a nessun vingolo, né un patto di sangue, né un patto economico, nasce da un mistero. Non chiede niente in cambio, se non altra amicizia. Grazie mille.